Andiamo a fare un giro. E dove? Non so, in città. Ma stiamo in città. È un paradiso. Vuoi passeggiare? Come i vecchi? Prendiamo un appartamento immenso. Chiediamo l'emancipazione fuori dalle palle, educatori e assistenti sociali. Non faremo come i nostri genitori. Credi di essere furba? Ma sei solo stupida. A 17 anni non si può essere seri. E nessuno può farci niente. Perché voi adulti ne avete avute di idee? Che esempi ci avete dato? Essere incinte insieme. Saremo libere, felici, autonome. Tutti ci rispetterebbero. Così resteremo sempre insieme. Incredibile, Florence è incinta. No. Cosa? Siamo in due. Dimmi chi è stato! Cinque ragazze incinte. Bisogna fare qualcosa. Ah, no, 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 no. Ci vuole un test per ogni volta. Dodici. È il tuo gruppo che te l'ha messo in testa. È Camiglie soprattutto. Con le sue idee. A quanto ci risulta, tutt'oggi siamo a 15. Vuole spellere Camiglie e Fourier? Se questo può far paura alle altre posso farlo.